Una storia profonda. Benvenuto a Stefano Caserini del Politecnico di Milano che ha organizzato questo incontro a Alessandra Conversi dell'ISMAR CNR e a Nadia Finardi, presentazione che è di casa. Welcome and thanks for giving me the opportunity to present my book. I'm Elko Rowling, I'm professor of Ocean and Climate Change. Certo, come sta dicendo in sottofondo il professor Elko Rowling è docente di paleoocenografia e climatologia all'Università Nazionale dell'Australia e anche all'Università di San Antonio Inghilterra. Io sono ovviamente entusiasta di questo libro ma volevo soprattutto chiedere a tutti i panelisti di dire da loro e innanzitutto passerei la parola a Stefano Caserini perché il libro stesso, un libro che racconta una storia lunga 4 miliardi e mezzo di anni al lassù e giù per gli oceani per oltre 10 chilometri è una storia assolutamente fantastica i panorami che nessuno ha mai visto, se non per fortuna l'autore. Volevo chiedere a Stefano Caserini la storia di questo libro e come mai si è deciso di tradurlo ed in un ambiente di pubblicarlo? Dovresti togliere, dovresti accendere il tuo microfono. Ecco sì, buongiorno a tutti e a tutte. Allora devo dire che ho letto questo libro un anno fa e devo dire che mi è piaciuto molto e soprattutto l'ho trovato un libro diverso dai libri sul clima che ho letto, ce ne sono tanti di libri sul clima anche molto belli e disponibili. Questo libro però ha la particolarità di far vedere il problema del cambiamento climatico da un punto di vista diverso, dal punto di vista del tempo profondo, quindi di quella che è stata la storia della Terra e secondo me questa è una visione che manca e da questa visione si riesce meglio a capire la particolarità della crisi climatica e anche il perché dell'urgenza di agire per ridurre le emissioni di gas clima alteranti. Quindi è un libro scientifico e sappiamo che spesso questi libri vengono visti come qualcosa che devono rimanere per gli addetti ai lavori. In realtà se si spiegge questi racconti, alcune parti magari sono un po' più complesse, altre meno. Leggendo questo libro si capisce molto del perché l'attuale situazione è veramente un qualcosa nella storia degli esseri umani sicuramente di assolutamente eccezionale. È anche quello che c'è in gioco, cosa rischiamo se non agiremo in modo deciso contro il cambiamento climatico. Noi, adesso spero che il produttore sia pronto. Può levare la slide? Non l'ho messa io, ecco grazie. Eccoci qua. Beh, spero che tutti abbiano preso nota, che possono intervenire attraverso, scrivendo domande di Nero, alzando la mano, insomma, possono intervenire. Non appena il professor Rowling avrà finito la sua presentazione. E a lui ti passo la parola. So che è molto distante, credo in Australia, ma lo confermerà. Where are you? Posso dire solo una cosa, Silvi? Scusa, mi sono dimenticato. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare sia Etica SGR che ha contribuito, che ha reso possibile anche la traduzione di questo libro, dando un contributo anche per la traduzione, e anche Edizione Ambiente che ha accettato questa sfida di pubblicare un libro così bello anche sugli oceani e nuovo per il panorama italiano. Adesso quindi cedo la parola a Elko Rowling per la sua presentazione. Benvenuti e grazie per avermi dato la possibilità di presentarmi. Io sono Elko Rowling, docente di cambiamenti oceanici e climatici all'Università dell'Australia, nonché professore associato all'Università di Southampton. Quindi inizierò dicendovi perché ho scritto questo libro, vi darò una panoramica di che cosa tratta, e parlerò di alcuni dei grandi eventi di cui siamo testimoni oggi. È impossibile ovviamente entrare in tutti i dettagli, visto il tempo limitato, ma vi darò una panoramica illustrata delle dinamiche che io analizzo in questo mio talk. Parlerò di alcuni aspetti che sono critici per la storia della Terra e ovviamente degli oceani e ciò aiuta a fare delle riflessioni importanti sul nostro futuro verso la fine della presentazione e darò accenno di alcuni eventi così importanti, così straordinari, così impressionanti. Ovviamente il libro entra molto più nel dettaglio, dà delle prove scientifiche, però ovviamente io non posso entrare nei dettagli e rendere giustizia soltanto al mio libro, soltanto in 20 minuti a disposizione. Quindi vediamo qual è la formazione del Sistema Solare a 9 miliardi dopo il Big Bang e arriviamo a 5 miliardi d'anni fa in cui il pulviscolo spaziale ha cominciato ad accumularsi in cerchi attorno al primo Sole e grazie alla gravità si sono formati i primi pianeti. Il pianeta Terra si è formato 4 miliardi 540 milioni di anni fa e subito dopo un grande pianeta chiamato Sea colpì la Terra scagliando detriti nell'atmosfera, nello spazio intorno ad essa, detriti che si accumularono formando la Luna e questo impatto di Sea, l'impatto di Sea non è soltanto responsabile della formazione della Luna, ma anche per aver inclinato l'asse terrestre senza il quale noi non avremmo le stagioni oggi. Quindi già 4 miliardi d'anni fa sulla Terra vi erano gli oceani, abbiamo delle evidenze, delle prove della loro esistenza, quindi la storia degli oceani si snoda lungo gli ultimi 4 miliardi d'anni. Quindi questa è una rappresentazione grafica della storia della Terra, ho evidenziato alcuni momenti chiave nella storia geologica, alcuni eventi, quindi si parte da 540 milioni d'anni dopo la formazione della Terra con la formazione dei primi oceani, 300 milioni d'anni dopo vediamo le prime forme di vita, 800 milioni d'anni dopo la formazione della Terra vediamo il primo evento di ossigenazione a 900 milioni d'anni vediamo la creazione, la formazione delle prime alghe multicellulare, 700 milioni d'anni dopo vediamo i primi animali multicellulari e poi vediamo 250 milioni, 225 milioni d'anni dopo vediamo due grandi esplosioni di vita sulla Terra, di vita complessa, la prima il periodo di Avalon con la formazione di tutta la fauna più o meno monocellulare quindi il protozoico e poi abbiamo il cambriano che ha dato vita a quelle che sono le forme di vita che vediamo oggi, vita complessa, quindi la vita complessa è presente sulla Terra in una forma nell'altra da circa 500 milioni, 565 milioni d'anni, quindi più o meno lo stesso periodo di tempo tra la formazione della Terra e la creazione dei primi oceani, l'esistenza dei primi oceani, quindi questo lasso di tempo sembra essere di particolare importanza per le nostre osservazioni. dai primi fossili vediamo che la vita batterica si organizzò inizialmente in stromatoliti che sono dei cianobatteri, delle colonie di cianobatteri e vediamo ancora degli esempi viventi di questi fossili viventi diciamo nell'Australia occidentale. Queste colonie rappresentano le prime prove di vita sulla Terra, in un ambiente molto ostile la fotosintesi gradualmente iniziò a rilasciare ossigeno, la Terra in effetti era un ambiente riduttivo quindi ostile all'ossigeno, l'ossigeno era ostile, l'ossidazione era un problema quindi, ma bisogna aspettare fino a 2500 milioni d'anni fa per vedere la formazione di ossigeno libero nell'atmosfera, negli strati superficiali dei mari mentre la profondità oceanica erano ancora prive di ossigeno. Un'altra cosa molto importante è che secondo le varie prove di datazione cristallografica vediamo che la crosta terrestre ha cominciato a formarsi 4 miliardi e 400 milioni d'anni fa, quindi subito dopo la formazione della Terra, la tettonica placca è diventata appunto una caratteristica della formazione della crosta oceanica, quindi è nello spostamento dei continenti, vedete in questa immagine la formazione della falda oceanica, medio oceanica, la formazione e distruzione della crosta oceanica che dà la formazione delle montagne, questo processo di tettonica placca che non soltanto sposta i continenti e forma le montagne ma controlla anche il ciclo del clima e anche i livelli di salinità, quindi la formazione del sale negli oceani. Se utilizziamo i fossili per vedere quali sono state le aree geologiche vediamo che attraverso gli anni in base alla distribuzione delle rocce e della loro stratificazione possiamo tracciare il movimento dei continenti sulla superficie terrestre e gli oceani qui sono i veri creatori dei continenti, le rocce continentali sono molto più stabili mentre gli oceani continuano a formarsi e a distruggersi e come risultato di questo la forma degli oceani è cambiata molto di più spostando i continenti, in alcuni momenti i continenti si trovavano uniti gli uni agli altri nel famoso supercontinente che vediamo appunto la Pangea, si sono nuovamente poi successivamente separati in due continenti, uno meridionale e uno settentrionale chiamati appunto Gondvana e Lauresia e separati successivamente fino all'attuale formazione, l'attuale composizione, però vediamo un altro grande supercontinente 900 milioni d'anni fa che si chiamava Rodinia, che si chiama Rodinia e quindi queste fasi, questi cicli di formazione e distruzione dei supercontinenti sono dovuti appunto ai movimenti della crosta oceanica e qui entra il clima, la tetonica a placche e quindi vede l'inizio della vita del ciclo del carbonio, tutto questo inizia molto presto, la vita appare successivamente però si tratta di milioni e milioni di anni fa e inizia con essa il ciclo del carbonio, quindi la tetonica a placche ha dato vita, è legata al clima ed è un ciclo che dura milioni e milioni di anni, però c'è anche un ciclo più breve regato al carbonio e alla dissoluzione, quindi alla capacità di eliminare la CO2. Voglio evidenziare che si tratta di due cicli, quindi due cicli del carbonio, uno a lungo termine e uno a breve termine e quindi oggi ci sono 6 milioni di tonnellate di carbonio rilasciate nell'atmosfera dall'uomo, questo 6 è una media ovviamente dalla seconda guerra mondiale, ma gli attuali livelli sono di più di 10 gigaton, quindi noi stiamo pompando più di 10 gigaton di carbonio per anno nel sistema del clima in base appunto proveniente dai combustibili fossili. Pensiamo soltanto che il contributo in CO2 proveniente dai boccani è soltanto 0,1 gigaton, quindi 10 versus 0,1, quindi è un ciclo di emissione umana che è 100 volte più veloce, 100 volte maggiore. È importante sapere che noi stiamo immettendo carbonio nell'atmosfera ad un ritmo impressionante. Quindi, riferendomi di nuovo a questi due componenti del ciclo della CO2, vediamo che questo è, la CO2 è ovviamente un gas serra ed è legato alle variazioni di temperatura sulla terra in un modo diretto e in modi anche meno diretti, più complessi. Quindi abbiamo, vediamo che nella storia, abbiamo dei periodi molto lunghi di emissione di CO2 con temperature alte, quindi nei periodi storici e geologici in cui c'era più CO2, vedevamo, vediamo anche una temperatura maggiore. Negli ultimi 800 mila anni abbiamo dei dati molto più precisi per quanto riguarda il livello dei mari, la temperatura globale, la temperatura antartica e i livelli di CO2. Quindi è un errore dire che noi non riusciamo a capire qual è la formazione, quali sono le dinamiche del clima, perché noi le possiamo addirittura evidenziare in modelli. Quindi noi conosciamo quali sono le dinamiche del clima e del cambiamento climatico, sappiamo bene come e in quale velocità avviene, sono soltanto i piccoli dettagli che rimangono da essere appunto da vedersi. Questa freccia rossa indica che l'aumento dovuto all'attività umana dell'ultimo secolo, da 250-300 fino a oltre 400 parti per milioni di CO2, quindi ora ci troviamo a circa 412 parti per milioni, e questo è dovuto soltanto all'attività umana e continua a crescere di due, due e mezzo parti per milioni all'anno. Un aspetto fondamentale del libro sono i fattori delle estinzioni, quindi noi abbiamo avuto diverse estinzioni che sono direttamente correlate al rilascio di CO2 nell'atmosfera. Quindi la più famosa estinzione è quella dovuta all'impatto di un asteroide, 60 milioni di anni fa, che ha portato alla scomparsa dei dinosauri, per esempio. è una gran parte della vita sulla Terra, della vita complessa. E quindi poi ci sono stati, negli altri casi, inclusa l'estinzione del periodo ordoviciano-siluriano e nel devoniano, vediamo che in questi periodi, queste estinzioni sono caratterizzate da un'incapacità di assorbire la CO2 da parte degli oceani, quindi da un eccesso di emissione di CO2, ed è più o meno quello che stiamo facendo ora. Gli organismi negli oceani non possono accettare un abbassamento del pH, quindi un'acidificazione dovuta all'aumento di CO2, perché la vita appunto non è impossibile. C'è un'impossibilità di riprodursi, di formare il guscio. di riprodursi, come ho detto appunto, e quindi c'è una scomparsa della vita. Allo stesso tempo, il rilascio di CO2 crea una deossigenazione dei mari profondi, e quindi ciò porta a una morte completa, a un'estinzione di massa. Quindi, nel caso più grave, appunto, l'estinzione avverrà in tutti i livelli degli oceani, dagli oceani profondi a quelli superficiali. In tutti e tre i casi di estinzione, l'acidificazione degli oceani e la deossigenazione sono stati i maggiori fattori principali dell'estinzione, a cui si sono aggiunti poi dei picchi di temperatura. Altri fattori sono l'acidificazione degli oceani, e quindi vediamo nelle foto cosa succede se aumentiamo l'acidificazione, l'acidità delle acque oceaniche, quindi procediamo verso un ambiente privo di vita. Noi siamo a 500 parti per milione, quindi faremo più o meno quello che si prevede verso il 2100. La deossigenazione, ovviamente, impoverisce l'ambiente per quanto riguarda la varietà delle forme di vita. Alla fine dell'estinzione del Permiano, questa è stata dovuta appunto ad un'eruzione lunga 300.000 anni nella zona della Siberia, eruzione volcanica, che alla fine di questo evento ha comportato un enorme rilascio di CO2 nell'atmosfera. In quel tempo, questa emissione fu dovuta a un processo vulcanico, ma oggi è dovuta al processo industriale. E quindi, noi stiamo introducendo più CO2 di quanta i mari, di quanta l'atmosfera ne possono assorbire. L'acidificazione, allora, era di 0,7 e oggi ci si aspetta, fu di 0,7 unità in centinaia d'anni. Oggi, invece, ce l'aspettiamo appunto di 0,5 soltanto in 100 anni. E già vediamo un'estinzione di massa, che ha ad un ritmo veramente, veramente impressionante. L'estinzione, la grande estinzione del Permiano è 100 volte meno veloce di quella attuale. Quindi, per estinto si intende fine, la fine di qualsiasi forma di vita. Ovviamente non c'è una possibilità di tornare indietro. Alla fine del Permiano, di questa estinzione, rimasero soltanto gli organismi più semplici. Più semplici, quindi le più grandi estinzioni sono state forzate dal rilascio di CO2, similmente a quanto avviene oggi. Alla fine, tutto ciò che rimane sono le forme di vita più semplici. Ciò non include, ovviamente, l'essere umano e la sua catena alimentare. Noi stiamo pompando nel clima, nell'atmosfera, circa 100 volte più CO2 di quanto è accettabile, di quanto sia la capacità di soluzione da parte degli oceani, di assorbimento. Altri eventi molto importanti da tenere in considerazione sono i giganti di sale, quindi gli evaporiti, gli eventi di evaporazione. In questi periodi, in alcuni periodi nella storia geologica della Terra, si sono creati dei mari interni e l'evaporazione ha incrementato la percentuale di sale e l'acqua è diventata appunto sempre più salata e ciò ha lasciato dei massicci, degli enormi depositi di sale, chiamati appunto i giganti di sale e queste sono appunto le fonti del sale che noi amiamo così tanto, il sale rosa emalaiano, no? Quindi, per riassumere, il mio libro mostra come gli oceani abbiano già visto tutto, esistono da 5 miliardi d'anni, per cui, scusate, da 4 miliardi e mezzo d'anni, per cui hanno già visto tutte queste dinamiche. Quindi la Terra sa bene come trattare, come gestire la nostra CO2. Ovviamente ci vogliono 100 mila anni o più per ripristinare le condizioni precedenti. La fase, anche appunto nel passato, quindi la fase di pulizia, richiese centinaia di migliaia d'anni. Ciò che noi possiamo aspettarci è che il riscaldamento globale e quindi il scioglimento delle calotte polari e l'aumento del livello dei mari porterà a una riduzione del contenuto di ossigeno degli oceani e un aumento dell'acidificazione molto maggiore e quindi ha ad una mortalità, ad un'estinzione di massa. Se noi guardiamo il tasso di estinzione attuale vediamo che non ha precedenti anche se lo confrontiamo con le più grandi e drammatiche fasi di estinzione nella storia della Terra. Le catene alimentari collassano e ciò è una cattiva notizia per gli organismi complessi che sono specializzati appunto. Se gli ambienti specializzati collassano anche gli organismi specializzati muoiono. Possiamo ancora fermare la parte peggiore di questo processo. Dobbiamo ridurre le emissioni, meno carbonio, meno accumularlo, quindi immagazzinarlo altrove, diminuire l'inquinamento, attuare, adottare un stile di vita sostenibile il quale richiede anche di diminuire la pesca. Quindi per terminare il mio libro Oceani è stato seguito dal libro The Climate Question, Natural Cycles, Human Impact, Future Outlook edito da Oxford University Press nel 2019 e probabilmente uscirà nel 2021 un altro libro che seguirà a completare appunto questa trilogia e che parlerà di come riequilibrare il nostro clima, il nostro pianeta ma non sono ancora sicuro di quanto uscirà, quando uscirà e parla di ciò che possiamo fare per impedire questi cambiamenti climatici e tenerli sotto controllo. Grazie, molto grazie, molto grazie. Grazie Alco Rowling. Pensando all'ultima slide avrei un'obiezione che poi qualcuno vorrà fare al mio posto. Professor Rowling, non vorrei estendere questa cosa. Mi chiedo, è davvero sicuro che nella loro lunghissima vita gli oceani abbiano visto l'inquinamento per esempio della plastica che stanno vedendo in questo periodo, però io volevo sapere se Nadia Pinardi era ancora con noi prima di tutto sì il nostro traduttore ha avuto un problema tecnico lo sappiamo abbiamo risolto ascoltando l'inglese ma non è ancora qui quindi qualsiasi domanda dovrà essere fatta in inglese a Elco ok quindi ho un'obiezione ripetiamo sulle diciamo riflessioni fatte da Elco Elco Rowling mi chiedo se gli oceani abbiano visto tutto già tranne il guardato di livello di inquinamento soprattutto da plastica odierno vorrei innanzitutto che Nadia Pinardi dica innanzitutto si è letto e si è apprezzato il libro vorrei sapere se è d'accordo sul fatto che la corrente antartica è uno dei grossi driver su questi cambiamenti climatici perché spesso si pensa alla Amok alla corrente del Golfo questi sono ovviamente i fattori importanti o invece è la corrente circumpolare antartica che è importante cosa ne pensi Nadia? è il tuo turno non ho ben capito la domanda però credo di poter dire e iniziare dicendo che il libro di Elco è veramente interessante è uno sprono continuo per chi come me lavora nella fisica per guardare al problema del clima e delle dinamiche e degli oceani in una maniera in una prospettiva olistica quindi noi dobbiamo attraversare andare oltre quella che è la nostra propria disciplina per capire il sistema a livello globale su sia su scala a lungo termine che a breve termine quindi molto bello molto bene Elco questo è un bel libro che utilizzerò sicuramente con i miei studenti in diversi corsi soprattutto a livello universitario quindi quindi scusate stavo guardando alcuni messaggi io credo che Silvia abbia chiesto della relazione tra la circolazione del nord atlantico e le sue interferenze e le interferenze della circolazione antartica e della loro connessione ed è una scoperta recente questa connessione è stata scoperta non tramite le osservazioni dirette ma piuttosto tramite modelli di realtà virtuale diciamo così quindi attraverso i modelli che sono stati applicati e abbiamo visto che c'è questa stretta correlazione tra la corrente antartica circopolare antartica e quella atlantica del nord e la mia domanda per Elco quando abbiamo delle memorie di questa connessione nel passato quando il passaggio di Drex è aperto circa 20 milioni di anni fa abbiamo sappiamo come la connessione tra l'atlantico del nord e la corrente circopolare è avvenuta abbiamo testimonianze di questo sappiamo mi sentite sì sì molto bene quindi ero sul canale inglese e non ho sentito niente scusate quindi mi sono collegato all'originale e quindi ho visto mi sono reso conto che mi stavi facendo una domanda sì su questa domanda è un punto molto interessante perché il passaggio di Drex probabilmente si è aperto prima dei 20 milioni di anni fa però noi siamo nel processo di apprendere di capire che cos'è veramente importante e inizia sicuramente la formazione della calotta antartica è precedente all'apertura del passaggio di Drake circa 35 milioni d'anni fa quindi momento in cui si è iniziata a formare la calotta antartica quindi la corrente circompolare non sembra essere il fattore principale di questa formazione di questi processi però dopodiché noi vediamo un aumento di queste interazioni tra i due emisferi per quanto riguarda i cambiamenti climatici e questo è probabilmente ci dice che il meccanismo non è stato ancora studiato a sufficienza soprattutto se parliamo dei cambiamenti di AMOC probabilmente è ancora troppo giovane la questione dobbiamo capire quando si è formata AMOC come la riconosciamo oggi e probabilmente dobbiamo investigare meglio dobbiamo studiare meglio appunto in un periodo di 20 25 milioni di anni fa quando ha iniziato a chiudersi il passaggio tra l'Atlantico e il Pacifico e abbiamo iniziato a considerare l'Atlantico in una direzione nord-sud ma l'altra cosa molto importante è che i cambiamenti in AMOC sono veramente collegati a quanto sta succedendo all'assottigliamento della calotta polare nell'emisfero settentrionale quindi e questa è una cosa più recente quindi credo che sono queste nuove scoperte a cui ha fatto accenno Nadia e credo che ci sarà molto interesse nel cercare di ricostruire le forze che si sono applicate a differenti momenti ci sono delle aspettative per cui appunto sulla base di quanto io ho detto ci saranno dei grossi cambiamenti dopo l'apertura del passaggio di Drake dopo la chiusura dell'ismo di Panama per esempio quindi la formazione del mare dell'America centrale e quindi della formazione dei successivi influssi sulla calotta settentrionale e quindi tutti stanno cercando di capire come saranno i risultati come sarà come apparirà un'altra domanda posso chiederti no non assolutamente prego fallo quindi abbiamo gli strumenti per capire le diverse e per contro le differenti ipotesi come esploriamo il fondale oceanico meglio di quello di quanto facciamo oggi io credo che quello che tu stai cercando di dirmi è che abbiamo dei buoni processi dinamici per capire quello che succede e questa è la grande domanda ovviamente la maggior parte delle proxy che noi utilizziamo negli studi paleoclimatici e paleo oceanografici sono proxy di stato però le proxy dinamiche che indicano il tasso il ritmo dei flussi e quindi non soltanto le proprietà ma anche le quantità quindi a livello quantitativo queste sono molto più difficili da adottare stiamo facendo delle scoperte interessanti attraverso l'utilizzo della caratterizzazione con isotopi per esempio con il neodimio con gli isotopi del neodimio che stanno dando delle informazioni su quanta acqua veniva dall'emisfero settentrionale quale quantitativo quali sono i flussi e quindi questo è il tipo di proxy di cui avremmo bisogno e su cui dobbiamo concentrarci in paleo oceanografia ma allo stesso tempo le proxy tradizionali ci hanno dato lo sfondo cioè le informazioni appunto sul sul rapporto borocalcio quindi tutti questi questi proxy tradizionali questi sistemi tradizionali ci danno le informazioni sullo stato e sono molto appropriate per procedere e andare avanti quindi noi abbiamo bisogno delle quantità e dei rapporti di flusso e questo rende necessario un'interazione tra l'utilizzo di proxy e la loro interpretazione tradizionale e i nuovi modelli di ricerca quindi ci sono molte variabili quindi non puoi basarti su un semplice modello numerico ovviamente hai bisogno dei modelli penso che tu sia soddisfatta Nadia penso che sia soddisfatta Alessandra chiedo anche a te cosa pensi del libro Alessandra Conversi è una biologa marina fa parte dell'ISMA ti sento devo rimanere sul canale inglese perché se no sento la traduzione in contemporanea comunque ti sento adesso il libro di Elko ogni tanto ha degli aspetti divertenti per come è scritto pensando a tutti i tuoi lavori sulla base della rete alimentare quindi io chiedo il lavoro di Alessandra Conversi è appunto quello di esaminare la catena la rete alimentare a volte tu Elko riassumi tutto con cose molte bizzarre o divertenti per esempio e soprattutto per quanto riguarda il fatto che il fondale oceanico è alimentato principalmente da cadaveri ed escrementi sì escrementi appunto quindi ora ma cosa ne pensi ovviamente è una domanda per me o per Elko è una domanda per te Nadia no Alessandra sono Alessandra sì scusami Alessandra tu lavori sulla base appunto sulle basi sui fondamenti dunque mi è piaciuto tantissimo il libro per il modo in cui mette tutto in prospettiva anche io persino io che sono appunto per natura interdisciplinare non avevo capito alcune cose per esempio è vero che che la che noi siamo noi uomini l'umanità è appunto è stato chiamato antropocene perché siamo una forza biologica una forza dinamica comparabile alle forze geologiche ma anche se noi abbiamo delle emissioni di carbonio sono cento volte maggiori di quanto non siano state quelle geologiche esse sono le nostre forze sono altre dieci volte minori di quello che di quanto lo siano le altre forze biologiche per cui la bio e soprattutto il biota marino è particolarmente forte nel trasferire appunto nell'influire sull'interscambio di co2 tra l'atmosfera e il mare e quindi ovviamente visto che il biota è vivo e si parla di di escrementi e quindi e questo è un altro punto importante ovviamente io mi sono depressa tantissimo quando ho pensato che noi stiamo distruggendo la vita sulla terra ma poi mi sono resa conto che non stiamo distruggendo la vita ma stiamo distruggendo noi stessi quindi la vita sulla terra è potente quindi sopravviverà sicuramente io lavoro sul l'impatto del clima sul biota marino e soprattutto negli ultimi anni noi abbiamo visto il cambiamento di stato negli ultimi anni nella mia comunità c'è un'enorme preoccupazione sul fatto che stiamo innescando dei cambiamenti irreversibili quindi non soltanto che questi cambiamenti per esempio quello nel permafrost e nella corrente atlantica possano amplificare l'un l'altro ma tutto questo anche a livello interdisciplinare non siamo riuscito a capire la scala di osservazione quindi non mi sono mai preoccupata più di tanto dell'aspetto paleoceanografico che invece è molto importante ed è grande questa cosa perché con chiarezza fa un confronto tra una serie di eventi che sono avvenuti soprattutto l'emissione di alte quantità di carbonio esterno laddove per carbonio esterno si intende quello esterno al normale interscambio tra atmosfera e oceani ma quello proveniente dalla terra e in particolare nel nostro caso quello quella proveniente dalla combustione di combustibili fossili e quindi la conseguente acidificazione dell'oceano l'impatto sulla vita marina con semplicità viene comparato alle estinzioni del passato soprattutto con quella del periodo permiano appena appunto citata da Elco che ha portato all'estinzione del 95% della vita marina un 75% di quella sulla terra quindi è una prospettiva molto interessante ed è anche vero che il panel sulla biodiversità ha parlato appunto di un milione di specie che sono a rischio a rischio di estinzione l'estinzione è in atto ma non si sa se sia un'estinzione di massa ancora e questo ancora in fase di dibattito però c'è in corso un notevole cambiamento quindi noi stiamo in grado di fare delle brutte cose alla nostra specie e però allo stesso tempo abbiamo una capacità tecnologica incredibile per poter procedere in alcune direzioni più favorevoli quindi io capisco sempre di più giorno dopo giorno la necessità di emissioni negative non è sufficiente essere neutrali neutri vorrei chiedere ad Elco invece qual è il feedback negativo quali sono i fattori che noi dobbiamo monitorare per il futuro prossimo soprattutto a livello di vita marina cosa possiamo fare cosa dobbiamo monitorare per esempio cosa ne pensi di quello che si può fare attraverso il satellite qual è la prossima frontiera è una domanda complicata lo so quale sarà la prossima grande estizione tu stai pensando io ho parlato con un sacco di colleghi per esempio quello che vedo è che le barriere coralline sono uno dei fattori più a rischio che soffrono appunto del riscaldamento dello sbiancamento normalmente le barriere coralline riescono a recuperarsi a riprendersi dallo sbiancamento però vediamo che questi fenomeni di sbiancamento sono sempre più frequenti e quindi portano alla estinzione quindi alla sparizione di larghe porzioni delle barriere come sappiamo le barriere coralline sono un incubatore per tantissimi organismi marini e sono assolutamente importanti per le larve dei pesci e quindi ci sono molte zone di pesca che insistono sulle barriere coralline e laddove appunto moltissime specie di pesci iniziano il loro ciclo di vita e quindi questa è una cosa assolutamente allarmante secondo me bisognerebbe avere un grande programma di monitoraggio che inizi a guardare alla salute delle barriere coralline per vedere ciò che succede e non è qualcosa che si può fare regolare probabilmente si riuscirà a fare qualcosa sull'acidificazione per far sì che non per peggiori perché l'acidificazione più il riscaldamento ha delle conseguenze particolarmente nefaste per le barriere coralline noi possiamo fare qualcosa sull'acidificazione potremmo sicuramente fare qualcosa sul fatto di avere delle buone delle reali risorse riserve marine per proteggerle dalla pesca indiscriminata o eccessiva in modo tale che quelle che sopravvivono almeno i loro organismi possano completare il proprio ciclo di vita senza essere appunto spezzato dall'intervento della pesca l'altra cosa che direi è per quanto riguarda il sistema del clima in generale noi dobbiamo veramente capire meglio quale è il ciclo del metano e il suo rilascio nell'atmosfera molti ritengono che siano delle perdite dell'industria petrolchimica soprattutto dai pozzi di petrolio ma si è pensato per molto tempo che il metano viene dagli allevamenti di bestiame e poi poi si è tornato indietro si è capito che invece che si tratta del permafrost il metano viene rilasciato dallo scioglimento del permafrost quindi dobbiamo avere la capacità di tracciare meglio queste emissioni di metano a livello globale e questo può essere fatto da satellite molto bene ci basiamo ancora su delle caratterizzazioni isotopiche per quanto riguarda le varie fonti di emissioni di metano e quindi questa è qualcosa che deve essere sviluppata perché il metano è un gas serra molto peggiore della CO2 se comincia ad essere emesso in grandi quantità per cui io direi che veramente per capire per quanto riguarda lo scioglimento della calotta artica e del permafrost bisogna concentrarsi proprio sul rilascio di metano e quali perdite di combustibili fossili sono in atto dobbiamo capire molto meglio questi parametri quindi questi sono i due sistemi su cui io applicherei la mia tensione quindi barriere coralline e l'emissione di metano giusto? il metano e le barriere le barriere coralline sì abbiamo ancora cinque minuti a nostra disposizione Stefano Caserini del Politecnico di Milano lui cerca soluzioni a tutti questi problemi che sono stati descritti soprattutto l'acidificazione degli oceani ma noi sappiamo che lui è un fan del tuo libro e voglio chiedere appunto a lui cosa ne pensa di questo libro ovviamente Stefano chiedi fai le domande che vuoi so che ne hai e vediamo quali sono le soluzioni devi togliere il mute dal microfono grazie Elko per ciao Stefano per aver fatto questo libro ho apprezzato molto la conclusione del capitolo 8 sul clima e sugli oceani del futuro vorrei solo citare alcune alcune righe le ultime la conclusione di questo capitolo dove dici che il limitato impatto del allora la riduzione che dobbiamo fare è di 250 ppm di carbonio nelle nostre emissioni dobbiamo farlo immediatamente per limitare lo scioglimento dei ghiacciai quindi noi abbiamo dobbiamo dobbiamo ripulire il disastro che abbiamo fatto quindi ripulire il disastro il disordine che abbiamo creato e qui si apre la questione della rimozione della co2 quindi dobbiamo passare dai 420 430 ppm odierni di emissione ai 250 quindi ci sono delle sistemi di rimozione terrestre cosa ne pensi invece quella rimozione della co2 che riguarda gli oceni per esempio la fertilizzazione o l'alcalinizzazione io credo che sia molto interessante l'alcalinizzazione allo stesso tempo noi possiamo controbattere contrattaccare l'acidificazione e anche i cambiamenti atmosferici quindi se noi contrastiamo l'emissione a livello atmosferico di co2 non contrastiamo l'acidificazione degli oceani quindi queste sono delle sfide scientifiche per quanto riguarda appunto che chiamano in questione appunto l'importanza dell'alcalinizzazione degli oceani questa procedura grazie quello che stavo per dire questi sono gli argomenti trattati dal libro che uscirà l'anno prossimo molto bene quindi l'alcalinizzazione degli oceani non è necessariamente vista in molte prove in test che sono stati fatti non sembra avere un grande sistema di rimozione della co2 a livello oceanico però il potenziale con la fertilizzazione e per esempio con l'idrogeno negativo è molto maggiore però molto probabilmente non saremo in grado di realizzare questo potenziale però per quanto riguarda l'alcalinizzazione una delle sfide che noi stiamo affrontando è che noi possiamo alcalinizzare lungo le coste e questo è molto più semplice a livello legale da realizzare anche se molti potrebbero avere dei problemi con l'alcalinizzazione nei fiumi per esempio il modo di cercare di realizzarla attraverso appunto la fertilizzazione dei campi e trasferire l'alcalinità senza per esempio riversare la calce nelle acque direttamente perché appunto questo potrebbe causare dei problemi legali o di percezione da parte del pubblico negativa noi alla fine ci infiliamo negli stessi problemi legali dovuti alla fertilizzazione quindi non soltanto bisogna fare ulteriori ricerche scientifiche ma anche bisogna sviluppare il quadro legale perché questi questi processi avvengano il protocollo attuale internazionale è molto efficiente efficiente nel proibire esperimenti negativi per qualsiasi cosa che sembra essere sembra interferire col clima e con con il sistema con l'ambiente ed è proprio invece quello che noi vogliamo fare vogliamo avere un effetto un impatto sull'ambiente soltanto per essere in grado di fare degli esperimenti a livello su piccola scala soltanto già fare questo è difficile tracciare la CO2 soprattutto se si lavora in oceano aperto quindi come si monitora tutto questo quindi soltanto una piccola goccia di esperimento in un grandissimo oceano quindi è difficile anche misurare questi risultati quindi se vogliamo fare in un contesto più ampio bisogna avere un contesto legale che sia accettato a livello internazionale che ti impedisce di fare determinate cose anche se teoricamente puoi dimostrare si dimostra che sono cose sicure c'è bisogno comunque di un quadro legale questa è una delle sfide maggiore del nostro tempo noi dobbiamo trovare sufficiente argomentazioni scientifiche per quanto queste siano positive sull'utilizzo della calinizazione della fertilizzazione degli oceani possono essere buone valide quanto volete però bisogna che portiamo l'opinione pubblica dalla nostra parte per far capire alle persone che noi stiamo non stiamo cercando di inquinare o di semplicemente riversare roba nell'oceano soltanto per appunto per il fatto di scaricare roba ma il nostro obiettivo è di avere una risposta prevista quindi noi dobbiamo capire questa risposta che avremo e poi convincere la gente rendere la cosa accettabile e inserirla in un contesto legale che consenta di attuare questo tipo di interventi oggi appunto noi dobbiamo essere in grado di effettuare degli interventi laddove c'è oggi un quadro legale che impedisce di farli Stefano Caserini stiamo un pochino in ritardo ma se vuoi aggiungere qualcosa abbiamo giusto pochissimo pochissimo tempo vuoi dire qualcosa o ringraziare semplicemente il professor Rowling voglio appunto rispondere alle ultime cose che Elko ha detto dicendo che sì c'è una sfida scientifica ma anche io credo una una sfida legale a livello regolamentativo ma non abbiamo un'alternativa noi non stiamo non è che abbiamo altre opzioni a livello di regolamentazione bisogna capire che se non facciamo niente per diminuire le emissioni di CO2 ovviamente ci saranno disastri questa è l'argomentazione quindi sì non so tu Elko cosa ne pensi è un punto molto importante su cui io sono d'accordo al 100% sfortunatamente gli avvocati i nostri avvocati i nostri legali proprio perché c'è un quadro legale che è appunto noi ci abbiamo lavorato tantissimo per proibire lo scarico di materiali nell'oceano per non interferire con gli ecosistemi con gli ambienti poiché esiste questo quadro legale per appunto dei ottimi motivi per impedire lo scarico il riversamento di materiale radioattivo ma proprio per questo motivo non si tratta non è più nelle mani dei politici la questione loro possono solo cambiare la legge dopo che è stato creato il quadro normativo quello che noi dobbiamo fare è avere i nostri legali di questioni marittime far sì che esaminino il problema quindi hanno creato il quadro normativo ma ora dopo averlo creato devono modificarlo per consentire questi esperimenti escludendo quei geni che vogliono semplicemente riversare del ferro nell'oceano per disfarsi dei rottami e lo chiamano fertilizzazione di ferro quindi noi dobbiamo veramente assicurarci che ci sia una perfetta definizione di ciò che è un esperimento scientifico qual è l'obiettivo della riduzione delle emissioni di carbonio ma non che non sia un semplice riversamento di materiale nell'oceano noi vogliamo dare una medicina non vogliamo semplicemente scaricare del materiale riversare del materiale vogliamo dare un malox per eliminare e diminuire l'acidità degli oceani non abbiamo bisogno di legali ma di dottori Alessandra capisco Alessandra conversi e so che tutti i i pannellisti vogliono fare delle domande anch'io voglio farne ci sono tantissime domande riguardo l'incremento del livello dei mari soprattutto a livello del mediterraneo e ci sono altre cose però sfortunatamente dobbiamo lasciarci e lasciamo queste questioni aperte per il prossimo incontro quando uscirà il tuo prossimo libro speriamo il prossimo anno quindi il prossimo è uscito nel 2019 quindi è il terzo della serie sì va bene grazie per la precisazione Alessandra conversi Nadia Pinardi Stefano Caserini Ottavia e tutti quelli che ci hanno ospitati al centro euro mediterraneo su cambiamenti climatici ringraziamo i partecipanti ringraziamo tutti quanti mi dispiace ma dobbiamo proprio lasciarci grazie 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 a tutti.